Per la serie anche non Xiaomi abbiamo qui oggi una lampada a led da applicare tramite clip al vostro monitor del pc o al vostro portatile. Ciao amici oggi abbiamo qui una lampada a clip da applicare al monitor del vostro computer o al vostro portatile o eventualmente da applicare anche sul mobile del vostro computer. Questa lampada è dimerabile e si può alimentare tramite usb. 84 led di alta qualità. La barra ha una rotazione regolabile di 120 gradi. La clip si adatta a qualsiasi monitor con spessore da 1 a 3 centimetri. Con questa mini pulsantiera noi possiamo accenderla. Poi possiamo avere tre diverse tonalità di colore. La prima è quella con led gialli. La seconda con led bianchi e la terza con led sia gialli che bianchi. Poi possiamo aumentare l'intensità e diminuirla. Ragazzi se siete interessati a questo tipo di lampada per pc o portatile io vi lascio il link in descrizione per un eventuale acquisto. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Condividete il video mettete un bel pollicione verso l'alto e iscrivetevi al canale. Ciao alla prossima. Ciao alla prossima. Grazie a tutti